Bene, diamo subito la parola alla coordinatrice di Generazione Liguria, Francesca Giudice. Buonasera a tutti. Il tema che abbiamo appena finito di sentire come dibattito è quello relativo alle risorse e le opportunità per questo Paese. E quindi mi piacerebbe partire da quella che è la mia idea di opportunità, ovviamente usando quella che è la mia esperienza. Dal 17 luglio 2014, data in cui sono diventata la coordinatrice regionale di Generazione Lega Cop Liguria, ho avuto la grandissima opportunità di iniziare a conoscere il mondo Lega Cop. Quindi ho iniziato non solo a vivere quella che è la vita della mia cooperativa sociale per la quale lavoro, ma anche di conoscere appunto questo sistema, questa rete, e di entrare in questo meraviglioso gruppo che è Generazioni e che io ringrazio veramente sempre per tutto il lavoro che stiamo facendo insieme. Quindi dicevamo, opportunità è una parola veramente dalle svariate sfaccettature, ma credo che sia il termine che caratterizza veramente la situazione dei giovani di oggi. Bisogna dare la possibilità ai giovani studenti, siano essi di istituti superiori o universitari, di capire e comprendere veramente che cosa vuol dire fare impresa nel mondo cooperativo. Perché la promozione cooperativa parte principalmente dal dialogo, per capire quali sono le esigenze, i bisogni, ma anche i sogni, e le modalità, gli strumenti per arrivare alle nuove generazioni, per parlare con loro e contaminarsi ovviamente in senso positivo a vicenda, tutti insieme. Si deve dare l'opportunità ai soci lavoratori di comprendere che cosa vuol dire essere socio, quali sono i valori dell'impresa cooperativa, ma soprattutto quali sono i diritti e i doveri di questa figura fondamentale sulla quale si poggia la cooperazione. E solo così si potrà auspicare una sempre maggiore partecipazione e condivisione della base associativa, coinvolgendola in quelli che sono gli organi della governance, avendo sempre così una maggiore responsabilità da parte di ognuno. I giovani hanno bisogno di avere l'opportunità di accrescere la loro esperienza e le loro capacità, nell'ottica di un ricambio generazionale. E' proprio per questo che come generazioni crediamo che sia fondamentale valorizzare ogni giorno sempre di più la prassi dell'insegnare ad insegnare, appunto nell'ottica del trasferimento delle competenze, perché come ha detto anche Andrea Rapisardi questa mattina, da soli non si va da nessuna parte perché un albero senza radici vola via, ma ai giovani bisogna dare la possibilità di formarsi, di fare esperienza e di accrescere veramente il loro bagaglio esperienziale ogni giorno di più. Infine bisogna dare l'opportunità ai gruppi di nuove generazioni di parlare, di esprimersi e di farsi conoscere, valorizzare le loro idee innovative di cooperazione. Infatti, come generazioni LegaCop Liguria, stiamo collaborando in maniera molto attiva alla promozione del progetto Giovani Lavoro di Ames LegaCop, ovviamente LegaCop Liguria, il cui obiettivo generale è la costruzione e il sostegno di start-up cooperative, riprendendo il concetto della partecipazione, ovviamente, quindi siamo all'interno dei luoghi frequentati dai giovani, dove vengono fuori, vengono create le loro idee innovative che molto spesso possono portare veramente buoni frutti e sono un momento in cui veramente un giovane magari a volte può anche costruirsi un posto di lavoro in un momento veramente così difficile. Ovviamente tutto questo viene fatto anche attraverso l'attività costante e fondamentale dello scouting. Dobbiamo dare l'opportunità ai giovani cittadini e cooperatori di vivere, di lavorare in un mondo trasparente, contaminato e intriso di legalità, perché noi come generazioni stiamo dalla parte della responsabilità nel senso più alto del termine. E per spiegarmi al meglio voglio citarvi una frase tratta dal libretto rosso di generazioni che ovviamente tutti voi avete nelle borse che vi sono state consegnate ieri pomeriggio, che cita, noi giovani cooperatori siamo gli artefici del nostro destino, quindi il ricambio generazionale passa anche da prese di responsabilità dirette, assunzioni di rischio all'interno delle organizzazioni e da un confronto vero e sincero con le attuali leadership. Perché noi giovani ci siamo, vogliamo esserci sempre di più per poter imparare, crescere tutti insieme e speriamo di poterlo fare nel modo migliore possibile. E quindi riprendendo il tema, risorse e opportunità per il Paese e per i giovani di questo Paese meraviglioso che è l'Italia. Grazie e buon congresso. Grazie Francesca. Guardate la bellezza di questo congresso, io parlo dopo il Presidente della Cooperazione di Consumo, quindi immaginate l'alleanza tra il consumo e l'agroalimentare, quindi è fantastico. Per ora però mi limito a presentare la parola a Ettore Anni, Presidente della Coppesca. E quindi siamo anche pronti a dare il nostro contributo per favorire un processo che risponda alla necessità di semplificare la struttura della rappresentanza attraverso un processo di accorpamento e riorganizzazione che ponga la nostra Lega Copp in grado di rispondere ai mutati scenari e ai mutati bisogni di rappresentanza, servizi, assistenza che vengono dal mercato e dalle nostre imprese. La proposta di integrare Lega Coppa agroalimentare e Lega Pesca in una nuova area di alimentazione risponda ad una visione strategica più che condivisibile, una confluenza più che naturale e per quanto ci riguarda già auspicata da tempo, almeno a partire dal congresso di Lega Pesca svoltosi nel 2004, con il titolo L'impresa cooperativa di pesca nel sistema alimentare europeo. Non si può far fronte ai nuovi scenari senza inserire l'economia ittica in un rinnovato e moderno sistema dell'alimentazione che valorizzi l'intera filiera, mirandone con tempo alla tutela del produttore e del consumatore. Per usare una metauro spaziale, il futuro della pesca non è solo in mare quanto anche all'attività a terra. Chiediamo a questo congresso che si possa scaturire la richiesta di una reorganizzazione dell'attuale Ministero dell'Agricolo nella direzione di un sempre maggiore peso delle politiche per le alimentazioni. D'altro canto, i maggiori Stati dell'Unione Europea, dalla Germania alla Francia, dalla Danimarca alla Gran Bretagna, da tempo si sono dotati di un apposto Ministero dell'Alimentazione. Non si tratta quindi ovviamente di una modifica estetica del nome, ma di un profondo riassetto delle funzioni e delle competenze, un riassetto che sia in grado di rispondere al meglio all'enorme sfida competitiva che l'Italia gioca sia sul mercato nazionale che estero, sulla qualità e sulla valorizzazione di produzione alimentare di eccellenze. Quello che chiediamo è anche per questo processo che sia, come dire, non sia dettato soltanto su una scelta obbligata dall'esigenza di rispondere alla crisi che noi attraversiamo, ma sia un frutto di una scelta ben ponderata, in una visione strategica di un ampio respiro nei confronti dei nuovi bisogni del mercato e delle nuove esigenze della società e dei consumatori. Siamo certi che questo processo di integrazione non potrà avvenire per semplice e giusta opposizione e sommatoria delle parti. Serve quindi un confronto paritetico, in grado di gettare le basi di un nuovo soggetto della rappresentanza, che sarà tanto più utile e proficuo se sarà accompagnato da un corrispondente riassetto del quadro istituzionale. Se questo processo prenderà piede come noi ci auspichiamo, sarà anche necessario a questo punto rivedere anche il percorso di AC Pesche e di AC Agricoltura. Grazie. Enzo Gasparutti, presidente di Lega Copp Friuli Venezia Giulia. Si prepari Carlo Zini. Buongiorno a tutti. Sono onorato di essere qui con voi come presidente di Lega Copp Friuli Venezia Giulia. Porto il saluto del mio territorio. Un territorio che in un'ottica nazionale viene considerato ai margini dell'Italia sia per dimensione e collocazione geografica sia per densità abitativa. Siamo all'estrema punta del nord-est con 1.250.000 abitanti. Se però il Friuli Venezia Giulia viene analizzato in un contesto europeo sotto l'aspetto della storia, dell'autonomia, delle migrazioni e delle tradizioni e densità cooperativa, scopriamo un territorio pieno di ricchezze, tradizioni economiche, sociali e culturali con una grandissima vocazione e potenzialità ancora inespresse. Potenzialità che ci pongono al centro dell'Europa e che ci portano in modo naturale verso una forte internazionalizzazione. Internazionalizzazione della nostra economia a partire dalla valorizzazione geoeconomica del territorio che si colloca tra mare e terra, tra Mediterraneo e centro Europa. Tralascio la parte relativa alla macro-regione adriatico-ionica, che è un esempio ed è un'opportunità che va in questa direzione e non può non interessare la nostra regione e le nostre cooperative. È la terza strategia, dopo quella baltica e danubiana, ed è un'opportunità di cooperazione in diversi settori. Il Friuli Venezia Giulia, proprio per la sua collocazione geografica, può e deve essere un laboratorio per permettere in pratica quanto detto prima. Ci collochiamo, come dicevo, nel Nord-Est, che comprende le regioni dell'Emilia-Romagna, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige e il Veneto. Proprio per questo possiamo lavorare per realizzare progetti condivisi e affrontare meglio la crisi per lasciarla alle spalle, dare avvia a una politica progettuale del Nord-Est. Dobbiamo ripensarci, costruire una rappresentanza associativa che rispecchi i veri valori economici e sociali delle nostre associate, e non viceversa. Un esempio, la nostra regione, con la regione Veneto, ha dato origine all'area distrettuale del Nord-Est, nel settore dei servizi. Legato a quanto detto, c'è un altro elemento di grande importanza per uscire dalla crisi. L'innovazione a 360 gradi. Innovare vuol dire mutare uno stato di cose introducendo norme, metodi, sistemi nuovi. Vuol dire ammodernare, riformare, rinnovare. Per un'azienda significa introdurre qualcosa che incrementi valore. Per farlo è necessario un cambio di prospettiva e uno sguardo a 360 gradi sul mondo. Non possiamo restare fermi al concetto di innovazione come un tema che interessa solo la ricerca o lo sviluppo tecnologico. Ma dobbiamo allargare la visione estendendola anche ai modelli aziendali, organizzativi, alle strategie, alle collaborazioni. Per cui non innovare non è un'alternativa a costo zero, ma diventa una vera e propria perdita di competitività. I processi e le dinamiche posti in atto dagli attori del territorio devono infatti poter adattarsi ai paradigmi di un nuovo sistema economico aperto e reticolare che faccia proprio la cultura dell'innovazione, non solo tecnologica, ma anche giuridica, sociale ed organizzativa. Ecco l'innovazione necessaria per una cultura di imprese capace di dare vita a nuovi modelli organizzativi. A questo punto non posso non fare un richiamo alle recenti crisi del consumo del Friuli Venezia Giulia per evidenziare come la scelta di restare in una dimensione locale senza costruire reti si dimostri non essere più adeguata ai tempi. Noi come organizzazione dobbiamo incentivare processi di aggregazione e diffusione fra cooperative, proprio per superare questo limite dettato da un mercato che non è più quello di qualche anno fa e che richiede nuove strategie pensando a una grande distribuzione organizzata che ragioni su larga scala. La grande distribuzione organizzata presente in Friuli Venezia Giulia è un patrimonio storico che comprende anche la logistica e lo sviluppo di filiere produttive ma va riposizionata e correttamente valorizzata. Il prestito sociale ed è proprio quello che è successo da noi in Friuli Venezia Giulia che ha evidenziato come la gestione del prestito sociale sia un aspetto particolarmente importante e delicato. Alla luce anche dei fatti di Trieste e della Carnia la delicatezza e la correttezza dell'amministrazione di questo istituto è determinante per l'intero movimento. Le ripercussioni economiche e sociali determinano danni irreparabili anche a quelle cooperative che correttamente lo applicano. È necessario discutere e condividere l'impegno a regolamentare meglio a tutela dei soci, prestatori e delle cooperative i comportamenti rispetto a questo istituto. Grazie. La parola a Carlo Zini. Sarò breve come impone l'ordine del giorno e volevo entrare subito nel merito di alcuni temi congressuali. Primo, condivido appieno la relazione del nostro Presidente. Credo che abbia sollevato tutti i temi più sensibili. Devo anche dire per come è stata accolta in particolare credo dai Presidenti delle altre centrali cooperative sia un viatico per pensare che la strada verso l'alleanza sia una strada ben tracciata e rapida. Questo credo che sia uno di quegli impegni che si deve prendere il congresso. Credo che un altro degli elementi che è venuto fuori sempre in modo molto telegrafico e che non ci divide nella relazione è che la divisione non è tanto fra le grandi e le piccole cooperative ma nel nostro mondo è fra gli onesti e i disonesti. E credo che questo sia uno degli elementi su cui noi dobbiamo puntare per fare un elemento di comunione e divisione. Tenete conto che problemi come quelli che stiamo affrontando non sono eliminabili. Sono in qualche modo prevenibili ma dobbiamo essere in grado di affrontarli. Esorcizzarli non serve a nulla. Da questo punto di vista uno degli elementi che vorrei sottolineare è a differenza del periodo passato in questi due anni noi riusciremo a fare qualcosa di diverso se saremo in grado di cambiare il passo delle decisioni. Molte delle cose che sono state dette erano patrimonio di riflessioni fatte anche gli anni scorsi. A volte noi siamo pronti a criticare situazioni che vediamo in casa da altri e mi dispiace che uno dei dei light motive italiani sia quello dei cantieri. Quando avete visto il Ministro invece come Stato in grado di apprezzare la qualità dell'imprenditoria cooperativa che normalmente è in grado di accelerare i cantieri se ci sono condizioni esterne che lo consentono e invece facciamo fatica a vedere che anche i nostri progetti sono dei cantieri e noi se non cambiamo il passo in questi progetti rischiamo di pensare a un mondo antico che non c'è più inseguendolo in modo improprio. Questo per dire che noi siamo un sistema in cui coesisteranno grandi e piccole cooperative cooperative di lavoro e cooperative di utenza ma che queste sono cose diverse. L'elemento che ci congiunge è l'elemento appunto della socialità dell'impresa dell'intergenerazionalità di alcuni principi fondamentali prima si parlava di limite dei mandati una delle cose più importanti sarebbe che quando uno in pensione smettesse il proprio mandato non i limiti che i limiti dei mandati io mi ricordo che ero giovane e ne parlavamo ma la sostanza anche nel nostro mondo è che le regole bene o male spettano ai più grandi ai più grossi farle rispettare è comodo non avvedersene anche i tempi il tempo della mediazione è finito noi abbiamo bisogno di andare senza indugio si è detto l'1-1 2017 mi faccio una domanda pensate che sia stato un cantiere che si conclude in anticipo io credo che abbiamo discusso molto abbiamo discusso abbondantemente l'obiettivo è quello del 2017 e bisogna tenerlo a prescindere anche rimuovendo coloro che non sono d'accordo perché per andare in fretta non lo si può fare in una logica di buonismo andare in fretta probabilmente noi ce ne stiamo rendendo conto nel mondo della produzione e lavoro vuol dire fare scelte un po' difficili e con questo vorrei concludere intanto per dar testimonianza e non ho potuto parlare con il ministro prima che intervenisse di capire perché un settore quello delle costruzioni è in crisi è vero che le cooperative di produzione e lavoro annoverano delle grandissime imprese industriali ma voi pensate che un settore che crolla del 50% possa rendere indenne un mondo che ne rappresentava una parte consistente come quello delle costruzioni cooperative e pensate che uno degli elementi che per salvaguardare quel mondo sia quello di enfatizzare la capacità che ha quel mondo di mantenere i posti di lavoro ebbene io vi dico che mantenere i posti di lavoro in quel mondo è antitetico a mantenere le imprese e noi quando dovremo mantenere le imprese dovremo confrontarci col problema dell'accompagnamento degli esuberi al di fuori di queste imprese e questo non è un problema facile un altro problema non facile è quello del prestito sociale qui si è teso a dare una risposta non tocca al mondo nostro dare una risposta perché ormai il prestito sociale è intimamente come dire nello spirito della sua natura nelle cooperative del mondo che rappresento anche se ha creato non pochi problemi però è evidente che da questo punto di vista noi dobbiamo fare in questi anni scelte che consentano ai grandi piccoli di sentirsi a casa e sapere interpretare un mondo nuovo rispetto al quale per esempio nel mondo della produzione e lavoro cioè delle grandi imprese che girano per il mondo il modello cooperativo primario con i soci lavoratori probabilmente non è il modello della prospettiva ma bisogna individuare per mantenere quell'impresa all'interno del nostro mondo dei modelli che consentono in un'impresa di capitale di avere un controllo di soggetti cooperativi in parte come è venuto nel mondo agricolo perché non possiamo pensare che l'evoluzione e la dimensione spinga queste imprese al di fuori del mondo grazie e buon lavoro ci ha raggiunto in sala un nostro grande amico l'onorevole Bersani che ringraziamo per la partecipazione al nostro congresso non manca mai ai nostri appuntamenti diamo la parola a Chiara Bertelli si prepari Giorgio Bertinelli Chiara Bertelli è portavoce Generazioni L'Emilia Romagna Buonasera a tutti nel precedente panel abbiamo parlato di opportunità anche con riferimento all'Europa mi collego agli argomenti aggiungendo due temi i giovani cooperatori e i valori cooperativi fin dalla sua nascita Generazioni ha trovato nello spazio internazionale il suo contesto di riferimento siamo forse la prima generazione di cittadini nativi europei fin da studenti senza passaporto con l'euro in tasca inglese seconda lingua per studiare la cooperazione ampliare i nostri confini e trovare nuove risposte oltre che nelle nostre cooperative siamo andati a cercare a Rochdale a Mondragon a Bruxelles stringendo relazioni trovando nuovi amici e nuovi colleghi l'anno scorso in vista della nuova programmazione europea abbiamo cercato di dare alla nostra attività una prospettiva internazionale più di quello che abbiamo fatto fino adesso proprio per cercare di cogliere quelle opportunità che l'agire in una dimensione europea porta ci siamo resi conto che disponiamo di una risorsa unica la rete mondiale delle cooperative un miliardo di soci e un'organizzazione l'ICA presieduta da Paulingreen che ieri era qui con noi che ha organizzazioni associate come Lega Coop in tutti i paesi del mondo una rete ed è qui che risiede la vera opportunità basata su principi e valori che sono uguali per tutti Andrea un collega di generazioni ci racconta che quando fondò la sua cooperativa che si occupa di progetti di mobilità internazionale chiese consiglio a Ivano Barberini su come individuare possibili partner in Europa Barberini gli rispose di cercare tra le cooperative e di presentarsi come cooperatore funzionò senza bisogno di troppe presentazioni ma se agire a livello europeo è un'opportunità oltre che oggi una necessità perché ci siamo chiesti all'interno delle nostre cooperative e nelle nostre strutture associative si parla così poco della rete mondiale delle cooperative quanto investe Lega Coop sulla sua presenza in Europa fino ad oggi troppo poco abbiamo apprezzato i riferimenti all'internazionalizzazione e ai documenti congressuali così come l'impegno dell'ACI di aprire a Bruxelles il primo ufficio in comune abbiamo anche però deciso di agire in prima persona e il 2 ottobre scorso a Bologna abbiamo lanciato la costituzione della prima rete europea dei giovani cooperatori insieme a Pauline Green ai rappresentanti di Cooperatives Europe e ai colleghi di OOP giovani i giovani di conf cooperative è un progetto che si sta già concretizzando e che vedrà la luce nei prossimi mesi anzi sicuramente uno degli appuntamenti costitutivi sarà a settembre prossimo proprio all'Expo a Milano con una puntatina su Bologna ed è un progetto che si sta concretizzando anche grazie al preziosissimo sostegno di Stefania Marcone e di Lega Copa Emilia Romagna vi terremo informati sugli sviluppi vi avevo anticipato che vi avrei parlato di opportunità e credo di essere stata coerente guardiamo al futuro investiamo sui giovani e sull'Europa è un'esortazione non è un'affermazione grazie grazie Chiara per il rispetto dei tempi la parola ora il vicepresidente uscente di Lega Cop Giorgio Bertinelli al quale darei tempo necessario per esprimere il suo pensiero grazie mille cari colleghi voglio intanto ringraziarvi per la vostra accorta partecipazione voglio anche ringraziare il presidente e il direttore per la qualità dell'organizzazione del nostro congresso novità positive modalità di gestione efficienti io ho partecipato a tanti congressi ognuno ha parlato quando gli pareva come gli pareva del che ho assistito per la prima volta dopo 12 anni ad una organizzazione molto accorta posso posso dirlo con conoscenza appunto dopo un'esperienza di lunga ed onorata carriera oggi che concludo il mio incarico di vicepresidente di Lega Cop questa decisione è assolutamente necessaria prima di tutto perché ho avuto questa grande opportunità di mantenere l'incarico di vicepresidente per tre mandati secondo perché le scelte congressuali di oggi fra l'altro ci consentono di procedere ad un significativo rinnovamento della governance ritengo inoltre che sia opportuno per il presidente Lusetti che ringrazio per avermi chiesto di continuare ad assolvere il ruolo di vicepresidente fino al congresso debba avere le mani libere nell'attribuire nuove responsabilità e nuovi incarichi la relazione del presidente e condivido totalmente mi consente peraltro di fare brevissime osservazioni su argomenti che ritengo utile ricordare ai delegati e che non erano previste ovviamente nella mia idea principale della relazione che intendevo fare cari colleghi e mia intenzione presentare a questo congresso un bilancio dell'operato della mia parte dell'organizzazione per un dovere di trasparenza verso l'organizzazione ed un sentimento di rispetto per chi ha consentito la nostra elezione voglio però raccontarvi brevemente l'attività e l'organizzazione quindi di Lega Copp in questi anni quindi cercherò di presentarvi un breve racconto che vorrei semplicemente esemplificare in tre eventi specifici quando venne a Roma come vicepresidente eletto con Poletti presidente la nostra situazione logistica e patrimoniale era molto diversa da quella attuale Lega Copp pagava un affitto all'assicurazione per la proprietà degli immobili di Via Quattani e le associazioni avevano sede ognuno in immobili diversi a Roma nessuno di proprietà oggi Lega Copp per una scelta fatta allora dalla presidenza è proprietaria degli immobili di Via Quattani in Roma ed ha acquistato il palazzo a fianco dove sono ospitate le associazioni di settore prima sparse per la città questi due palazzi sono dotati di servizi adeguati per svolgere attività associativa gli effetti sono stati un taglio di costi miglioramento dell'efficienza a una maggiore interscambio formale ed informale fra strutture associative territori e cooperative il significato politico è tuttavia un altro in una fase in cui lo slogan centralità dell'impresa veniva interpretato come debolezza dell'associazione si è invece proceduto ad un rafforzamento patrimoniale al miglioramento dello standard di efficienza alla qualificazione del ruolo politico dell'organizzazione dare respiro politico e prospettive di futuro all'Ega Copp è stata una seconda scelta che è stata compiuta in questo periodo il lavoro per raggiungere l'unificazione fra le tre centrali cooperative costituire l'alleanza delle cooperative italiane naturalmente ha avuto una gestione impegnativa ed anche faticosa all'inizio la questione era oggetto di riflessioni fatte fra pochi il clima era ipersensibile agli accadimenti politici chi pensava di avere problemi con una certa maggioranza politica spingeva di più chi pensava di avere meglio posizionato era restio a condividere relazioni il lavoro dell'unità fra le tre centrali è stato gestito in una prima fase dalla presidenza delle tre centrali una scelta politica che ho avuto la possibilità di condividere con i presidenti Altieri Marino e Poletti naturalmente abbiamo avuto qualche difficoltà per affrontare il tema della governance sul tavolo c'era la proposta delle nomine di un presidente dell'alleanza senza limiti di mandato ci fu una discussione fra una molto animata che si concluse con l'accordo che il presidente di una delle tre centrali nominato a presidente dell'alleanza sarebbe stato in carica per un anno compatibilmente con la conferma per un secondo anno decisione poi regolarmente rispettate mediante il confronto franco serie argomentazioni e solidi principi è stato possibile trovare la soluzione che hanno portato verso le proposte legate alla prospettiva dell'unificazione fra le tre centrali cooperative ho ritenuto opportuno raccontarvi la piccola storia del lavoro delle attività di unificazione fra le tre centrali e la decisione su cui abbiamo lavorato perché abbiamo ritenuto fondamentale operare per raggiungere l'unificazione guardate oggi se ne parla con molta tranquillità vi garantisco che in questi anni è stato sempre molto complesso trovare le occasioni opportune per l'unificazione il terzo episodio con cui concludo questo rapidissimo bilancio del mio operato riguarda la responsabilità operativa che ho assolto in questi 12 anni in direzione del settore relazioni internazionali oggi sono uno dei vicepresidenti di Coops Europe l'organismo rappresentativo di tutte le organizzazioni cooperative presenti nei paesi europei questa occasione mi consente anche di sottolineare il riconoscimento verso quanti hanno lavorato con me conseguendo risultati importanti e duraturi per ragioni di ruoli interni a Lega Coop ricorderò solo l'attività di Stefania Marcone che lavora da tempo in Lega Coop come responsabile dell'ufficio esteri e che è stata per anni membro eletto negli organismi internazionali della cooperazione cito fra virgolette il più votato nel mondo fra i dirigenti cooperativi e che ringrazio di cuore per la proficua collaborazione che ha caratterizzato i nostri rapporti in questi anni consentitemi infine di esprimere qualche mia opinione sul ruolo della cooperazione nel nostro paese naturalmente sarò brevissimo avevo predisposto alcuni appunti che lascerò alla presidenza mi limito solo a sottolineare che considero importante prestare il massimo dell'attenzione presso l'attività portata avanti dall'Eca Cup che ha saputo tenere con grande attenzione l'idea che non serve non servono posizioni antagonistiche o stagnazione di rapporto fra governo e corpi intermedi che invece è necessario un dialogo costante rispettoso e capillare se si vogliono varare riforme efficaci per l'Italia come per l'Europa o un bisogno assoluto di riforme strutturali dell'Assemblea e delle economie e delle istituzioni la regione è semplice stiamo decadendo sempre un'altra parte del mondo è sempre più dinamico ed in crescita purtroppo oggi la politica è delegittimata e da sola non è in grado di assicurare tale consenso per questo ritengo importante che sia essenziale il ruolo dei corpi intermedi la mia idea di democrazia si fonda su proposte dinamiche partecipative sull'autonomia di corpi intermedi sul ruolo importante di partiti e sindacati e la difficoltà di mantenere un ruolo importante da parte delle organizzazioni di rappresentanza comporta la valutazione delle difficoltà delle organizzazioni di lavoro in più noi cooperatori abbiamo il dovere di continuare ad occuparci della democrazia di contrastarne i fenomeni disgregativi che purtroppo osserviamo la cooperazione è nata anche per questo non è solo con tanto conto economico e stato patrimoniale vorrei che tutti noi non dimenticassimo mai che anche questa è la nostra missione anche questa è nel nostro DNA concludo ringraziando di nuovo Lega Coop per avermi consentito di fare una grandissima esperienza grazie grazie bene continuiamo i lavori Andrea La Guardia presidente di Lega Coop Servizi Lazio buongiorno a tutti molto probabilmente entrando in questo posto vi siete accorti che questo è un posto molto pulito e tenuto bene questo grazie ai lavoratori alle lavoratrici soprattutto donne della cooperativa 29 giugno e io penso che che questo congresso prima di tutto deve esprimere solidarietà a questi a questi lavoratori i cui dirigenti sono stati coinvolti dalle sono stati coinvolti dalle indagini il nostro primo pensiero è andato a loro a come salvare quei posti di lavoro a come salvaguardare quel lavoro non è un caso che il tribunale ha riconosciuto la perfetta continuità lavorativa di quell'azienda distinguendo tra i dirigenti incriminati e coinvolti nelle indagini e le imprese e noi ci siamo messi a fianco dei commissari per fare in modo che nessun posto di lavoro venga perduto la maggior parte di voi non sono non sono di Roma e in questi in questi giorni la nostra città è stata parecchio maltrattata e fino a poco tempo fa invece è stata portata diciamo agli onori dell'Oscar tramite il film il film la grande bellezza e la grande bellezza in questi giorni la potete vivere vivere a pieno nelle pause nelle pause del congresso ecco se prendete un taxi anzi se riuscite a prendere un taxi molto probabilmente quello che guida è un socio di una cooperativa perché la maggior parte dei tassisti da 50 anni in questa città ha deciso di organizzarsi in forma cooperativa se andate a visitare il Colosseo vi accoglierà un socio lavoratore della cooperativa Copculture se i nostri figli mangiano nelle mense scolastiche gestite dalle nostre cooperative di ristorazione che vengono guardate da tutta Europa con un elemento di eccellenza e sempre se da quel taxi alzate gli occhi probabilmente incrociate molte delle case costruite dalle nostre cooperative di abitanti che in questa città hanno fatto la storia dell'edilizia popolare se passate davanti alla Camera dei Deputati molti diciamo alcuni alcuni ospiti a questo congresso frequentano quel luogo la Camera dei Deputati viene pulita da una nostra cooperativa fondata da nove donne da più di 30 anni i servizi sociali la maggior parte dei servizi sociali per le persone svantaggiate da questa città vengono svolte dalle nostre cooperative sociali ecco questo voglio dire che il mondo della cooperazione laziale romana è un pezzo importante dell'economia di questa città ed è un pezzo importante che non si può fermare questo patrimonio di cooperative e cooperatori non deve essere lasciato solo hanno bisogno più di prima sul territorio della Lega delle Cooperative non si meritano per colpa di qualcuno di essere lasciati soli come non siamo stati lasciati noi dal Presidente Lusetti che colgo l'occasione di ringraziare da questo podio per essersi messo da subito insieme a noi a fianco a noi per mettendosi dalla parte della soluzione e non del problema come sono rimasti dalla parte della soluzione quei dirigenti che non hanno lasciato la nave ma anzi si sono impegnati a salvare tutti i passeggeri e chi resta sulla nave per metterla per farla navigare ancora a lungo ha bisogno del sostegno di tutti abbiamo ricevuto in questi giorni parecchi messaggi dai nostri cooperatori dai nostri cooperatrici quello che mi ha colpito di più è di Anna Lisa una ragazza che aveva fondato una cooperativa nel mese di maggio mi ha telefonato e mi ha detto adesso come faccio io avevo creduto molto in questo mondo e credevo molto diciamo di far parte di un sistema di imprese che poteva aiutare la mia attività io gli ho detto insomma di Anna Lisa di non mollare perché poi secondo me la risposta migliore ad Anna Lisa inconsapevolmente l'ha data anche il mio presidente nazionale Bolsoni quando ha ringraziato le forze dell'ordine e la magistratura per aver individuato in questo caso perché questo veramente ci permette di segnare una linea di distinguere tra le persone sane e oneste e quelle che non lo sono state per cui Anna Lisa diciamo deve farsi forza come tanti giovani cooperatori di questo perché se vogliamo dare seguito a quell'immagine di infinito con cui chiudeva il suo intervento Mauro dobbiamo ridare fiducia a tanti giovani cooperatori che stanno guardando al movimento cooperativo come il modo per crearsi in un mondo di precariato una dignità lavorativa di lunga durata grazie alla parola ora Francesca Federsone la cooperativa Politecnica buonasera io mi riallaccio all'intervento del ministro Lupi che ha parlato di tempi certi per le grandi opere per ricordarci che una grande opera a tempi certi se c'è una buona progettazione a monte e questo mi permette di ricordarci che all'interno del movimento cooperativo storicamente sono presenti le cooperative di professionisti all'interno delle quali un ruolo fondamentale hanno le cooperative di ingegneria e architettura che sono un'eccellenza tipica del nostro mondo che ci ha permesso in tempi in cui esercitare la professione in forma organizzata era illegale di essere pronti prima degli altri con dei nuclei di ingegneria e architettura che possono oggi competere anche a livello internazionale per dimensioni le cooperative di professionisti l'ingegneria e l'architettura in particolare oggi muovono un fatturato di oltre 100 milioni di euro che sono 100 milioni di idee di progetti che possono essere fondamentali per rilanciare un mondo in crisi come quello delle costruzioni che all'interno del movimento cooperativo può trovare eccellenze che credo sono certa che permettano di rilanciare l'ingegneria l'ingegno italiano le costruzioni che sono stati per anni per secoli un punto di riferimento all'estero e che devono tornare ad esserlo grazie la parola Pino buongiorno lega cop sociali Lazio si prepari per l'ultimo intervento Marta Micheli la cooperazione la cooperazione sociale di Roma e del Lazio è una cooperazione sociale sana che partecipa attivamente alla vita democratica di lega cop sociali sono 220 cooperative che ogni giorno attraverso il lavoro onesto di migliaia di soci lavoratori gestiscono asili nido assistono cittadini bisognosi fanno azioni di contrasto alla povertà creano comunità e occupazione inseriscono al lavoro persone svantaggiate non hanno nulla a che vedere con le pratiche criminali dei dirigenti della 29 giugno sono la parte lesa di questa vicenda eppure una cattiva comunicazione e analisi superficiali rischiano di confondere tutto in un unico polverone questo a Roma sta creando un impasse dal quale bisogna uscire rispetto a questo io credo che lega coppa abbia davanti a sé due compiti fondamentali il primo è di capire come sia avvenuto come sia stato possibile che in seno al nostro corpo associativo albergasse una simile aberrante realtà e quindi una volta capito ciò quanti corpi costruire il secondo però è di riscattare subito la parte sana del nostro movimento rappresentarla dare voce a quelle cooperative che da oltre 30 anni contribuiscono al buon funzionamento della nostra città al soddisfacimento dei bisogni della nostra comunità ho il timore che nella capitale troppo assorti nel primo compito si stia trascurando questo altrettanto importante ruolo la decisione già annunciata da subito dai cooperatori del Lazio della nostra volontà di costituirci parte civile nel futuro processo contro quella mafia che ha agito nella capitale è stata una decisione importante che ha marcato da subito una distanza abissale dai comportamenti di quella banda criminale ora però bisogna continuare a operare in maniera conseguente dobbiamo posizionare la cooperazione e quella sociale in particolare tra i principali attori protagonisti del riscatto della città di Roma ne abbiamo la forza e la capacità bisogna impedire che i lavori si blocchino e che la cooperazione non riceva più non gli vengano più assegnati lavori le nostre migliori esperienze devono contribuire al rilancio morale oltre che economico della città ricostruire un tessuto valoriale che recuperi la forte connotazione etica del movimento dobbiamo impedire che a seguito di questi fatti si getti oltre all'acqua sporca anche il bambino c'è bisogno che a Roma la voce delle cooperative si senta forte e chiara parli con il sindaco parli alla città operi come sa fare nei territori partecipi allo sviluppo della città dobbiamo aiutare le cooperative ad uscire da quel comprensibile sconforto nel quale le volgari e aberranti intercettazioni che hanno affollato carta stampata etere e web in queste tremende giornate hanno gettato tutti noi dobbiamo ora aiutarle a reagire bene ha fatto il presidente Lusetti a dare la prima indicazione di aprire un confronto con i soci e di andare avanti a schiena dritta oggi dobbiamo recuperare un altro elemento che ci consenta di superare quella fase e ripartire chiudere quel confronto interno e restituire slancio e fiducia alle nostre cooperative e qui vengo all'altro punto capire come sia stato possibile che ciò avvenisse senza che al nostro interno scattassero gli anticorpi giusti per fare questo dobbiamo essere chiari nell'analisi il nostro movimento non è fatto a compartimenti stagni per cui le attività si svolgono e si esauriscono tutte all'interno di un territorio o di un'associazione sarebbe facile recidere sono tanti i punti nei quali vengono prese decisioni si agisce in autonomia in una filiera nella quale nessuno comanda e non sempre tutti sanno le decisioni e le azioni che svolgono altri soggetti avviene così che una cooperativa come la 29 giugno che ha grande abilità ad autoaccreditarsi all'interno del nostro movimento prende contatti e si accredita con più punti dell'organizzazione associazioni di settore diverse consorsi nazionali strumenti finanziari di sistema cooperative di varie regioni nessuno si è reso protagonista di presentarli ad altri sono tanti segmenti che non necessariamente comunicano tra loro ma consentono a 29 giugno di ramificarsi all'interno del movimento acquisire referenze che si sommano tra loro noi comunque non abbiamo gli strumenti a disposizione gli strumenti che abbiamo a disposizione non sono in grado di capire ciò che la magistratura ha scoperto dopo anni di intercettazioni la 29 giugno infatti se osserviamo la sua parte legale quella che agisce in trasparenza è una cooperativa che ha una storia importante ha una elevata qualità professionale ha il bilancio certificato supera a pieni voti le ispezioni cooperative a ruoli di spicchi nelle reti imprenditoriali riceve sostegno dai nostri strumenti di sistema a rapporti di alliaci con importanti istituti di credito riceve premi nei comuni eccetera 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 abbiamo quindi il dovere di alzare la guardia innanzitutto dobbiamo riorganizzare la nostra filiera interna e poi senza trasformarci da associazioni di rappresentanza in entità giudiziaria dobbiamo alzare il livello dei controlli interni a fianco delle ispezioni che svolgiamo con le regole stabilite dal ministero dobbiamo costruire un nostro codice interno un supplemento espettivo che coinvolga più punti del movimento e che guardi più agli aspetti etici alla socialità alla durata in carica dei gruppi dirigenti ai loro patrimoni alla partecipazione reale dei soci alla vita della cooperativa Marta Micheli per l'ultimo intervento di questa sessione coordinatrice di Generazioni Lazio Salve a tutti in queste due giornate e anche negli interventi che hanno preceduto il mio abbiamo sentito molto parlare della città di Roma teatro di vicende terribili che intrecciano politica mafia corruzione e purtroppo anche cooperazione vicende che ci toccano da vicino ma che allo stesso tempo sentiamo molto lontane dal nostro essere e dal nostro operare mafia capitale è uno slogan che fa scalpore che riesce a riempire i titoli dei giornali ed attrarre l'attenzione anche dei più distratti ma la città di Roma i suoi onesti cittadini e le migliaia di cooperatori che sul suo territorio lavorano niente hanno a che vedere con queste vicende nell'attribuire alla città di Roma una connotazione che non è sua creiamo un odiosa sineddoche che scambia la parte per il tutto dimenticandoci quanto questa città può fare ed ha fatto per la nostra cooperazione e quanto la nostra cooperazione ha fatto e può fare per questa città Roma è uno straordinario volano per l'economia regionale e nazionale e le sue potenzialità sono ancora inespresse il turismo nella capitale ha subito un incremento di presenze nel 2014 maggiore rispetto alla media nazionale 6 milioni di turisti negli ultimi sette mesi sono arrivati a Roma ed hanno soffruito della nostra offerta alberghiera turistica culturale e ricreativa la cooperazione interviene su questo settore spesso in maniera frammentaria e disomogenea agendo quasi sempre su stimolo di bandi pubblici per la fornitura di servizi è ora di intervenire e invertire questa tendenza cominciare a proporre autonomamente strumenti e servizi innovativi sfruttando quello che è oggi come oggi il nostro nuovo cooperativo la capillarità di diffusione territoriale delle nostre strutture sia a Roma che in decine di piccoli comuni sparsi sul territorio laziale e l'innovazione che sta prendendo rapidamente piede nelle cooperative più giovani ma anche in molte delle nostre strutture consolidate una sinergia che può portare nuovo lavoro nuova cooperazione ed aprire nuovi mercati il turismo 2.0 e le smart city sono una realtà nel resto del mondo è ora che inizino a decollare anche da noi e sarebbe bello se questa innovazione partisse dal mondo della cooperazione che si trova veramente sul territorio e per questo è in grado di rispondere in maniera coerente alle esigenze di chi di questi servizi deve usufruire ma fare rete e di imparare a dialogare con la tecnologia sono i presupposti essenziali perché possa avvenire questa trasformazione perché il mondo della cooperazione possa sfruttare al massimo le potenzialità che la città di Roma ha da offrire siamo famosi nel mondo per la nostra cultura le nostre meravigliose città d'arte i nostri paesaggi e il nostro cibo è necessario rendersi conto che è da qui che dobbiamo partire per risolvere l'economia di questo paese e nel nostro piccolo dar vita a una crescita per le nostre cooperative ma bisogna farle in maniera strutturata organizzata e capillare perché la singola iniziativa può anche avere successo ma non crea una filiera in grado di cambiare davvero le cose una filiera che probabilmente solo nel mondo della cooperazione possiamo garantire una filiera che parte dalle cooperative culturali e arriva alle sociali passando per le cooperative di servizi e l'agroalimentare e la fornitura di servizi turistici passa lateralmente ed alimenta un altro settore in cui siamo famosi nel mondo il Made in Italy artigianale e manifatturiero un Made in Italy che oggi strizza sempre più l'occhio alla tecnologia sia come prodotto finale che come facilitatore di processi produttivi e proprio a Roma come ci ha ricordato anche il ministro Poletti stamattina nel mese di ottobre in questa stessa sede si è svolta la Maker Faire la fiera europea degli artigiani digitali centinaia di persone che per alcuni giorni hanno proposto idee prodotti e servizi o che hanno curiosato tra innovazioni futuristiche e tecnologie all'avanguardia piccole rivoluzioni digitali e tecnologiche che saranno in alcuni casi i prodotti e i servizi del nostro domani e noi come mondo della cooperazione non possiamo permetterci di stare a guardare noi dobbiamo aprirci all'innovazione perché è lì che negli anni a venire si giocheranno le partite economiche più importanti e possiamo farlo perché abbiamo i mezzi economici gli strumenti e il capitale umano per aggredire questi nuovi mercati noi qui a Roma e nel Lazio ci metteremo di impegno per rendere questi obiettivi delle realtà vogliamo rendere il turismo e la cultura ai settori trenanti della nostra economia abbracciare l'innovazione in tutte le sue mille sfaccettature e il dover riorganizzare e rafforzare la nostra struttura regionale ci offre l'assist perfetto per iniziare già domani a lavorarci nella speranza che al prossimo congresso che forse sarà già quello dell'ACI potremo associare la parola Roma ad un nuovo e più rappresentativo sostantivo innovazione grazie grazie